In studio, Viviana Sammito. Buonasera, l'avete sentito dai titoli. Il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, ha messo in atto alcune misure anticorruzione, inviando una lettera ai dirigenti regionali proprio per chiarire alcuni aspetti che riguardano questo fenomeno, ma soprattutto come prevenirlo. Facciamo il punto nel servizio. Il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, ha adottato misure anticorruzione. Sul tavolo dei dirigenti responsabili delle strutture regionali, stamattina è arrivata una lettera con la quale il governatore le ha richiamati a una corretta attuazione delle misure di monitoraggio e prevenzione del fenomeno. Tra le misure più importanti, quella dell'avvio di programmi di rotazione ordinaria del personale coerenti con le linee di indirizzo dettate nel piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Priorità dovrà essere data a chi è responsabile dei procedimenti nelle aree più elevato rischio di corruttela e a chi è addetto ai contatti con il pubblico. Il presidente Schifani, inoltre, ha sottolineato il dovere, in capo e dirigenti, di disporre con provvedimento motivato la rotazione straordinaria del personale nel caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. Sono misure volte anche alla tutela dell'imparzialità. Il presidente è stato chiaro. La misura va applicata appena si venga a conoscenza dell'avvio di un procedimento penale, invitando i dirigenti a raccomandare ai propri impiegati l'osservanza dell'obbligo di comunicare al datore di lavoro di essere sottoposto a indagine penale. La vigilanza sulla prevenzione della corruzione costituisce una priorità del nuovo governo regionale, ha detto Schifani, esortando i dirigenti ad una fattiva collaborazione per una rigorosa attuazione della misura. Parliamo adesso di un'operazione antimafia. Andiamo a Catania con il sequestro ai fini della confisca di beni immobili ed imprese per il valore di 2 milioni e mezzo di euro riconducibili a esponenti apicali del clan Cappello, il patrimonio riconducibile a Giuseppe Salvatore Lombardo e al figlio Salvuccio Junior. Ennesimo colpo inferto al clan Cappello dalla Polizia di Stato della Questura di Catania, sequestrati ai fini della confisca per complessivi 2 milioni e mezzo di euro, patrimoni illecitamente acquistati dagli appartenenti al clan, in particolare due persone ritenute dagli inquirenti socialmente pericolosi, Giuseppe Salvatore Lombardo di 55 anni e il figlio Salvuccio Junior di 28 anni, esponenti di spicco del clan Cappello, legati da diretti rapporti di parentela con il capostipite Salvatore Cappello. L'operazione ha dunque riguardato 5 immobili a Catania, un maneggio abusivo, 7 rapporti finanziari intestati ai loro conviventi, 2 imprese individuali commerciali nel settore della torrefazione e nel commercio del caffè, ed una nel settore dei fiori, quest'ultima gestita dalla famiglia Lombardo. Le indagini condotte dalla squadra mobile, dalla divisione anticrimine e coordinate dalla procura di Catania hanno permesso di verificare le posizioni economiche dei due, permettendo anche di individuare cespiti patrimoniali e attività commerciali intestati fittiziamente acquisiti attraverso il reimpiego di denaro proveniente dalle loro attività illecite. Le indagini hanno consentito anche di sequestrare per la prima volta un'impresa di fiori operante nell'area antistante il cimitero di Catania e ha permesso di riscontrare le infiltrazioni della criminalità organizzata catanese, in questo evidenziando l'interesse del sodalizio a mantenere il controllo di determinate attività commerciali, acquisendo autorizzazioni e concessioni amministrative intestate anche a terzi. E di questa operazione ne ha parlato il dirigente della divisione anticrimine. La pericolosità sociale si ricava da una serie, su cui si fondano le misure di prevenzione, si ricava da una serie di sindrome di indisi, fra cui le contanne penali riportate dai soggetti, recenti anche, in particolare nel 2022 sono state confermate due contanne per il figlio, Salvatore, di Lombardo, e da una serie di frequentazioni, dall'esame probatorio raccolto dalla squadra mobile, che corrobora con noi in questa attività d'intagine. I beni, gran parte indestati a terzi, a parenti, a congiunti, sì, su una signoria uti dominus, come se fossero quindi signoria di fatto sui beni, ma di fatto gestiti direttamente dal padre e dal figlio. E io ricordi che ci sia un sequestro di un'impresa operante di fronte al cimitero monumentale, dove storicamente la famiglia Lombardo ha affondato le sue radici, le sue tradizionali attività di commercio, l'ingrosso dei fiori. Picchiava la moglie insieme con le sorelle e la madre, anche davanti alla figlia, nel farlo è accusato di aver utilizzato il metodo mafioso, è il secondo caso in Italia, quello di un 54enne gelese, affiliato a Cosa Nostra, residente a Busto Arsizio, per lui è stato chiesto il rinvio a giudizio. Il metodo mafioso non lo utilizzava solo all'esterno, ma anche dentro casa. È un'orribile storia di violenza e maltrattamenti in famiglia, quella che, con la complicità di altre donne, avveniva tra Gela e Busto Arsizio. Un gelese di 54 anni, affiliato a Cosa Nostra, picchiava la moglie e la maltrattava con l'aiuto della madre e delle sorelle, utilizzando per l'appunto il metodo mafioso. È il secondo caso acclarato in Italia, per cui è stato chiesto il rinvio a giudizio e il processo è stato trasferito in Sicilia al termine di un'indagine condotta dalla DDA di Milano e dalla procura di Caltanissetta che hanno scoperto che la donna, una 48enne, è stata anche segregata in casa a partire dal 2003. La vittima ora collabora con la giustizia e gode della protezione testimoni dopo anni di vessazioni e minacce. Quando precedentemente aveva cercato aiuto, l'uomo non si era creato problemi a minacciare tutti. Sono venuto qui senza passamontagna, ha visto scoperto, non ho paura di niente, anche se devo tornare in galera, ci finiamo tutti sui giornali. Ho una cassa piena di armi, comincio a fare una strage. Aveva detto a due persone che in passato si erano offerte di aiutare la moglie. I fascicoli raccontano di una donna che non poteva uscire di casa senza il permesso del marito, controllata a vista da suocera e cognate. È picchiata anche davanti alla figlia, calci, pugni, obbligo di mostrare il cellulare e fotografare ogni spostamento di vieto di andare al lavoro da sola erano una costante. La prima udienza del processo è prevista a dicembre. Grazie all'intervento della figlia si è scongiurato un altro femminicidio. È successo nel quartiere Canalicchio di Catania, dove un 38enne ha tentato di uccidere la moglie con un coltello. La figlia salva la madre dalle coltellate del padre. Un 38enne è stato arrestato dai carabinieri del nucleo in radiomobile del comando provinciale di Catania per atti persecutori e distorsione. La ragazza ha chiesto l'intervento dei carabinieri in piena notte e disperata. Avvertiva l'operatore che il padre stava per uccidere la madre con un coltello. Giunti sul posto nel quartiere Canalicchio, i militari hanno trovato l'uomo in preda ad un forte stato di agitazione. I militari hanno poi appurato che il 38enne si stava separando dalla moglie, che non tollerava più la dipendenza del marito dagli stupefacenti, nonché le sue condotte vessatorie e violente, acuitesi dopo che era andato a vivere a casa della madre e dopo aver abbandonato un centro per la cura delle tossicodipendenze. Quella sera l'uomo era stato fatto entrare a casa dalla moglie dopo aver a lungo atteso davanti al portone e disturbando anche i vicini con schiamazzi, ma una volta entrato si è scagliato contro la donna, pretendendo e ottenendo la somma di 500 euro, minacciandola a poi di morte con un grosso coltello e un paio di forbici prelevati dalla cucina, dicendole che avrebbe utilizzato anche l'acido. La figlia dunque a quel punto si è scaraventata contro il padre, ferendosi anche le mani e dando così la possibilità alla madre di fuggire insieme al fratello e alla sorella più piccoli nell'abitazione dei vicini, poi l'arrivo dei carabinieri e l'arresto. Torniamo a parlare dell'omicidio del cardiologo di Favara, Gaetano Alaimo, il 47enne che gli ha sparato, ha ammesso le sue responsabilità e accusato di omicidio premeditato e anche di porta abusivo di arma da sparo clandestina, illegale che lo assiste e fa sapere che danni l'uomo è in cura da uno psichiatra. Facciamo il punto in questo servizio per tutti i dettagli. Mi servivano tre documenti per ottenere il rinnovo della patente, l'oculista e il diabetologo me l'avevano rilasciato, il dottore Alaimo invece mi prendeva in giro e rinviava continuamente. Con queste parole, Adriano Vetro, 47 anni, collaboratore scolastico in un istituto di Caltanissetta, ha motivato durante la confessione l'uccisione del cardiologo di Favara, Gaetano Alaimo. Il procuratore di Agrigento, Salvatore Vella, e il pubblico ministero, Elenia Manno, gli contestano ora l'omicidio premeditato e il porto abusivo di arma da sparo clandestina. Ha dato una sua versione sul momento che attualmente stiamo riscontrando e le indagini stanno continuando per accertare tutta una serie di elementi di contorno perché la ricostruzione fatta dall'arrestato trova allo Stato conferma in tutta una serie di elementi probatori sia documentali sia in dichiarazioni testimoniali di soggetti che erano presenti al momento in cui è avvenuto lo sparo e quindi l'omicidio del dottore Alaimo. La presunta arma utilizzata è stata sequestrata verso l'abitazione del soggetto arrestato, aveva delle munizioni nel caricatore e sono state sequestrate anche altre decine di munizioni che potevano essere utilizzate per questa pistola che risulta rubata nel Catanese nel 1979. Il difensore ha fatto presente che il suo assistito era in terapia da uno psichiatra da diversi anni, si prefigura quindi una semi-infermità mentale. Saranno aspetti da accertare con perizie o con con assurenze, allo Stato non abbiamo alcun riscontro documentale su questo aspetto. Vetro si trova nel carcere di Agrigento, l'uomo non è sposato e vive con i genitori, tra domani e dopodomani ci sarà l'udienza di convalida del fermo. paziente e specialista avevano avuto screzzi passati sempre legati al rilascio del certificato. Nulla però, ha aggiunto il legale, poteva far pensare a una cosa simile. Oggi è il tempo del dolore, della vicinanza alla famiglia, del collega, della solidarietà all'ordine dei medici di Agrigento, ma è anche il momento ancora una volta di chiedere piena applicazione della legge e più sicurezza ai medici. Lo ha detto il Presidente della Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici e degli odontoiatri, Filippo Anelli. Non bastano le parole per condannare un gesto così brutale. Oggi noi piangiamo. Un altro collega, concluso, caduto per mano di un suo paziente. Un falegname di 67 anni, Michele Pisciotta è morto a Palermo per le ferite riportate in seguito alla caduta dell'impalcatura di un palazzo di via Libertà durante un sopralluogo in un cantiere edile. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Le indagini sono condotte dalla Polizia e dai tecnici dello Spresal per risalire a eventuali responsabilità di terzi. Adesso vi raccontiamo una storia, a lieto fine che arriva da Avola dove è domenica scorsa a causa di un blackout dovuto al maltempo. Un 22enne costretto a letto dalla sindrome di San Filippo ha rischiato di morire. La famiglia a questo punto ha chiesto aiuto alla Polizia che è intervenuta immediatamente. La storia nel servizio di Valentina Frasca. Giuseppe è un 22enne di Avola affetto dalla sindrome di San Filippo. Una malattia genetica rara che in tutta Italia colpisce appena 50 persone e che inizia a manifestarsi nei primi anni di vita causando danni irreparabili al cervello fino a costringere a letto chi ne soffre. Al momento non esiste una cura e la vita di Giuseppe che ha ormai perso ogni funzione motoria da tre anni dipende dai macchinari elettromedicali e dalle cure amorevoli della famiglia. Domenica scorsa a causa del maltempo un blackout lungo 13 ore ha tolto l'alimentazione a questi macchinari e mamma Daniela, ormai nel panico, ha cercato aiuto nella Polizia di Stato trovando non uomini in divisa ma angeli custodi. Alle sei e mezzo del mattino è andata via la corrente elettrica ma abbiamo aspettato, abbiamo temporeggiato perché pensavamo che nel giro di qualche oretta sarebbe ritornata. Invece si fanno le 18 e eravamo ancora non al buio perché abbiamo il gruppo elettrogeno proprio perché avendo Giuseppe in queste condizioni che ha bisogno di macchinari elettromedicali ci siamo forniti appunto di un gruppo elettrogeno solo che era in funzione da quasi 12 ore ho chiamato il numero verde dell'Enel era sempre occupato ho pensato di chiamare il commissariato di Polizia di Avola e mi hanno dato due numeri uno di questi è risposto nel giro di 20 minuti la luce è tornata il commissariato e il poliziotto con cui ho parlato mi ha tempestato di telefonate per sapere se tutto era andato bene che loro sarebbero state a nostra completa disposizione nel caso in cui avessimo avuto ancora bisogno e io li voglio solamente ringraziare per quello che hanno fatto. Se la corrente elettrica non fosse tornata Giuseppe sarebbe morto per questo la famiglia Ruiz ha richiamato in commissariato per ringraziare e gli agenti ieri pomeriggio si sono recati personalmente da Giuseppe per conoscerlo del resto il motto della Polizia è semplice esserci sempre credo che l'attività della Polizia di Stato si basi su due concetti fondamentali il primo è quello del servizio pubblico in quanto offriamo un servizio ad ogni cittadino senza alcun tipo di distinzione e il secondo è il concetto di pubblica sicurezza infatti il fine ultimo dell'attività di Polizia di Stato è proprio garantire la securitas ad ogni membro della comunità che ci viene affidata noi siamo prima persone e come persone ci interfacciamo con i cittadini e poi abbiamo anche la responsabilità di rappresentare lo Stato per informazioni sulla sindrome di San Filippo e per sostenere la ricerca visitare il sito www.sanfilippofighters.org una 55enne di Roma è stata arrestata dalla Polizia Giudiziaria a Catania si fingeva curatrice di malati vulnerabili affetti da patologie ma tramite una sostanza stupefacente con altissimo potere allucinogeno è stata arrestata per detenzione ai fini di sostanza stupefacente guariva le persone vulnerabili affette da diverse patologie somministrando loro l'ayahuasca letteralmente l'iana degli spiriti o l'iana dei morti una sostanza stupefacente con altissimo potere allucinogeno è stata arrestata in flagranza di reato una donna di Roma di 55 anni considerata uno dei capi di una rete di curanderi l'indagata aveva una stanza allestita di vita all'esecuzione dei rituali a seguito dei quali veniva somministrata l'ayahuasca durante la perquisizione gli agenti hanno sequestrato ingenti quantitativi di dimetiltriptamina che crea effetti già a basse quantità tanto da essere stata recentemente inserita dal Ministero della Salute nella tabella 1 sulla disciplina di stupefacenti e sostanze psicotrope rinvenuta anche marijuana di funghetti al vaglio della polizia scientifica per risalire al tipo di principio attivo e 1.055 euro provento delle attività illecite la 55 anni è stata connota in carcere avevano rapinato un'anziana donna sono state arrestate madre e figlia ce ne parla Marco Scavino hanno 47 e 26 anni madre e figlia rintracciate a noto dopo aver derubato un'anziana donna ad Alcamo in provincia di Trapani la scoperta è dei carabinieri che hanno ricostruito il caso a fine ottobre mentre la donna si stava recando a piedi a messa viene fermata dalle due donne dicendo che erano amiche della figlia e che erano lì per aiutarla nelle faccende domestiche avrebbero poi detto di essere però anche facenti parte e incaricate dal comune per verificare le sue condizioni di salute a questo punto dicono alla donna che ha le mani gonfie e che c'è uno spray per aiutarla il tutto per sfilarle gli anelli monili che vengono messi in un cassetto affinché l'anziana potesse poi recuperarli dopo che lo spray avesse fatto effetto le due donne così lasciano l'abitazione solo a quel punto l'83enne si accorge di essere stata derubata non solo degli anelli ma anche della somma contante di 400 euro prelevati dalle donne in un momento di distrazione i controlli del territorio portati avanti dai carabinieri hanno però consentito con prontezza di risalire all'identità delle presunte malfattrici sono state rintracciate a noto e adesso restano a disposizione dell'autorità giudiziaria sono agli arresti domiciliari le due donne hanno truffato un'anziana donna truffe di questo tipo spesso si registrano perché vanno a colpire più fragili le forze dell'ordine raccomandano maggiore attenzione agli anziani anche in queste occasioni devono subito contattare un familiare un amico e non fidarsi delle parole di questi sedicenti amici di famiglia o amici di amici o tecnici di enti e associazioni se come in questo caso si dovesse apprendere a posteriori di essere stati truffati si deve subito contattare il numero unico per le emergenze il 112 proprio per avviare subito le indagini e rintracciare i malfattori si sono cimentati nella traduzione latino di Alba Chiara di Vasco Rossi e suscitando ovviamente l'interesse dei social attirando anche l'attenzione della rock star Vasco Rossi sono i ragazzi del liceo classico Eschilo di Gela che questa mattina sono stati ricevuti dal sindaco che ha consegnato anche gli attestati di merito sentiamo Veronica Pulisi hanno incantato i social è lo stesso Vasco Rossi che ha ringraziato pubblicamente i ragazzi del liceo classico Eschilo di Gela per la scelta del brano Alba Chiara tradotta in latino una scelta innovativa nata alla fine dell'estate dall'idea di due insegnanti per accogliere gli studenti delle prime classi l'abbiamo scelta proprio perché c'è un contrasto enorme con quella che invece è la voglia di apparire dei ragazzi di oggi, delle ragazzine di oggi e abbiamo voluto dare questo esempio dei valori che purtroppo stanno un po' andando via e abbiamo scelto naturalmente di farlo in latino che è quella lingua che loro studiano abbiamo insomma cercato con il testo di Alba Chiara di adottare una nuova metodologia didattica una metodologia didattica che rientra all'interno di un percorso avviato già da tempo nel nostro liceo Protagonisti Simone e Angelo, 15 e 18 anni ai quali è stata trasmessa la passione per i brani di Vasco Rossi dalle famiglie e dalle stesse docenti Essendo una canzone basata principalmente sulla scuola dato che noi l'abbiamo utilizzata per accogliere appunto questi nuovi giovani e portarli a noi per fondere insieme l'importanza di andare a scuola come questa ragazza ma anche l'importanza di una lingua come quella antica del latino Sicuramente sono felicissimo per il risultato sono felicissimo che sia arrivato a Vasco è sicuramente una bellissima emozione stare fra i suoi post di Instagram nelle sue parole Un importante collubio tra la musica e la lingua latina Dà anche l'idea di come il liceo classico sia ancora una scuola assolutamente attuale perché è la scuola che promuove la formazione a 360 gradi che valorizza i talenti dei giovani e credo che questo esperimento didattico testimoni proprio questo E proprio questa mattina il sindaco di Gela, Lucio Greco ha consegnato degli attestati di merito agli studenti e alle insegnanti Convinti come siamo che intanto le due agenzie educative più importanti nella vita che sono le famiglie e la scuola formano ed educano questi ragazzi e poi si registrano questi risultati eccellenti C'è una breve pausa pubblicitaria siamo da voi tra poco Ancora ben trovati in studio per la seconda parte di MTG è stato presentato il ricco calendario del Natale a Ragusa Da Ragusa centro a Ragusa Ibla passando per San Giacomo fino ad arrivare a Marina di Ragusa tutto il territorio sarà coinvolto per un mese intero dall'8 dicembre all'8 gennaio dal clima natalizio con tanti eventi ed iniziative promosse dal comune di Ragusa Verrà infatti ricostruito un autentico paese siciliano dell'Ottacento a Cava Gonfalone per il presepe vivente ma poi ci saranno anche i mercatini di Natale il villaggio del gusto Nostri partner Slow Food Sicilia perché sono stati i promotori di questa idea che abbiamo condiviso con il commissario Piazza che è quella di creare un villaggio del gusto per la valorizzazione e la commercializzazione dei nostri in particolare dei nostri prodotti agroalimentari di eccellenza ma trattandosi poi di un mercato in italizio abbiamo deciso di includere anche un po' di florovivaismo e anche qualche prodotto dell'artigianato artistico A Dibla tornerà la casa di Babbo Natale e il Bosco Incantato per un Natale ancora più ricco con il concorso Cunti d'Arte ma ancora spettacoli e tombola gigante anche a Marina di Ragusa grazie alla collaborazione di associazioni a San Giacomo le novene e gli appuntamenti per le famiglie a Donna Fugata i laboratori per i più piccoli moltissimi sono gli eventi di ogni tipo dai concerti ai teatri agli intrattenimenti teatrali ai laboratori per bambini che sono quasi 30 appuntamenti dedicati interamente ai bambini quindi invitiamo a consultare il programma sia sulle locandine che saranno sparse per la città sia sul sito web Il Capodanno con in Piazza San Giovanni a Ragusa Roberto Ferrari, pilastro di radio DJ e poi ancora il concerto del primo gennaio al Teatro Tenda Un Natale ricco, un momento delicato si cercherà di creare quell'atmosfera giusta per dare ai ragusani, ai turisti, a chiunque si trovi a Ragusa in questo periodo dei momenti lieti Domani è la giornata mondiale della lotta all'AIDS e tanti gli appuntamenti questa mattina tanti gli spunti di riflessione e di interesse attorno a un convegno che si è svolto al liceo Galilei Campailla di Modica Al via la campagna di sensibilizzazione sulle malattie sessualmente trasmissibili l'occasione di domani con la giornata mondiale della lotta all'AIDS dà l'opportunità di parlare delle altre malattie che in silenzio distruggono la vita di chi le contrae sono diversi gli appuntamenti in tutta la regione e tante strutture sanitarie stanno promuovendo screening gratuiti già oggi un incontro per rendere consapevoli i ragazzi sui rischi che possono correre vivendo una vita sessuale non sicura un'occasione importante quell'offerta agli studenti del Galilei Campailla di Modica l'AIDS fa registrare ancora numeri importanti a ribadirlo anche il presidente della CIMIT la società italiana malattie infettive tropicali della Sicilia Antonio Davì che oggi ha raggiunto il liceo scientifico di Modica quest'anno 1300 casi in Sicilia circa 93 casi ma anche le malattie sessualmente trasmesse sono levemente in aumento pensate che alla Conorrea i casi sono raddoppiati così come anche i casi di clamidia soprattutto fra i giovani, fra i 15 e i 24 anni siamo qui per fare informazione, per fare formazione, per educare alla prevenzione per rivedere i comportamenti a rischio una giornata di riflessione che è rivolta soprattutto ai giovani lo dove infatti la maggiore incidenza se consideriamo l'AIDS è fra i 25 e i 29 anni la giornata di domani però pone i riflettori anche sugli screening interesserà tutti i servizi dell'ASP, i consultori, i dipartimenti, le UOC di malattie infettive anche di Ragusa con un'attenzione agli immigrati e agli omosessuali quindi alla comunità e con diversa identità di genere un'occasione importante che crea consapevolezza tra i nostri studenti ha commentato il dirigente scolastico dell'istituto Galilei Campailla di Modica Galilei Campailla come sempre è attento a tutte le necessità dei nostri ragazzi e cerca di formare nel migliore dei modi possibili i cittadini del domani E adesso parliamo di disabilità con un appuntamento informativo sulla comunicazione organizzato dal Consorzio Siciliano di Riabilitazione insieme con l'AIDS di Acireale Un incontro informativo rivolto a insegnanti di sostegno e curriculari a ASACOM, terapisti della riabilitazione e ancora personale sanitario e a tutti coloro che intendano approcciarsi alla comunicazione aumentativa alternativa è quello che si è svolto presso la sede del CSR a Via Grande organizzato dal CSR e dall'AIDS di Acireale con il patrocinio dell'ASP di Catania e della ISAC Italy oltre all'Ordine dei terapisti della riabilitazione di Catania con la collaborazione dell'Onlus Comunicare e Vita La comunicazione aumentativa alternativa è una delle prestazioni riabilitative garantite nei centri del CSR e dell'AIDS di Acireale ed è fondamentale per tutte le persone con bisogni comunicativi complessi È importante per non lasciare indietro gli invisibili Gli invisibili chi sono? Tutte quelle persone che non sono in grado di comunicare che stanno in mezzo alla gente ma che vengono purtroppo, ahimè, sistematicamente ignorate in quanto non hanno la possibilità di relazionarsi con gli altri Si tratta di un insieme di strategie tecniche riabilitative e supporti necessari per aiutare le persone con bisogni comunicativi complessi ad esprimersi, interagire, socializzare ed è dunque di grande importanza per migliorare la qualità della vita di persone disabili di ogni età Questa giornata permette di informare gli operatori del settore, i docenti coloro che si occupano di persone con fragilità in questa importante tecnica di comunicazione permettono loro di poter acquisire una tecnica importante della CA affinché queste persone con disabilità riescono realmente a integarsi nei contesti di vita Si è parlato anche di integrazione scolastica, libri di testo in simboli inclusione nel percorso della catechesi, autismo e ausili a supporto della comunicazione tra i relatori Giuseppa Gennaro, locopedista e fisioterapista È un approccio terapeutico che sicuramente fa parte della medicina di base nell'ambito della riabilitazione questo è la CA purtroppo non è ancora tanto diffusa ci sono tante riserve tuttavia i risultati sono molto promettenti È davvero tutto con questo servizio grazie per la cortesa attenzione a voi tutti ancora buona serata